Sgominata banda di ladre specializzate in furti nelle auto sul territorio comunale di Capaccio. Tre le donne arrestate dai carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, agli ordini del luogotenente Serafino Palumbo. Sono tutti di origine slava e residenti nelle località Santa Cecilia e Campolongo di Eboli. L'indagine, coordinata dalla Compagnia di Agropoli, diretta dal capitano Giulio Presutti e dal sostituto procuratore Maurizio Cardea della Procura di Salerno, ha ricostruito oltre 40 episodi di furto imputabili alla banda, messi a segno dall'ottobre del 2014 ad oggi. Decisive le immagini recuperate dalle telecamere di videosorveglianza di diverse attività commerciali e una costante attività di appostamento. I furti sono stati commessi ai danni di auto parcheggiate sul litorale costiero, lungo via Porta Aurea nell'area archeologica di Pestum e ai danni di quelle parcheggiate presso il parco Le Trabe a Capo di Fiume, l'ex centroaci sulla SS18 e i caseifici Vannulo e Granato. Identica la tecnica utilizzata dalle malviventi per scassinare le auto. Dopo aver scelto con cura la vittima, in pochi secondi ne affiancavano la vettura con la loro auto e in maniera fulminia, con l'ausilio di arnesi da scasso, forzavano portiere e vete laterali asportando tutto il possibile dall'abitacolo, soprattutto borse, navigatori GPS e cellulari. Per tutte sono scattati gli arresti domiciliari e a seguito di processo per direttissima sono state sottoposte alla misura del divieto di dimora a Capaccio.